e racconta molti antefatti in maniera anche abbastanza disordinata, almeno a noi sembra così, perché è una composizione fatta nel tempo, in tutto il lunghissimo primo libro della sua opera. E il lettore rimane un po' sorpreso perché ha all'inizio una valutazione complessiva nella quale si leggono queste considerazioni che ora ho detto, la guerra più grande l'ho capito subito che sarebbe stata tale, eccetera. Poi incomincia un racconto molto minuzioso di antefatti specifici, incidenti, conflitti locali, operazioni di carattere commerciale, il blocco commerciale contro la potenza avversaria, e poi finalmente i prodromi della dichiarazione di guerra, dichiarazione di guerra che avviene attraverso un ultimatum. Entriamo un po' nella mentalità arcaica, anche se c'è tanta modernità poi nel comportamento di questi soggetti di cui stiamo parlando. Mentalità arcaica per cui da parte spartana si ingiunge agli ateniesi di cacciare dalla città gli uomini politici discendenti dalla famiglia che si era macchiata di una colpa sacrale gravissima, di avere ucciso sull'altare, quindi in luogo sacro dove non si poteva certo procedere ad un assassinio, un personaggio che aveva tentato di prendere il potere tirannico in Atene un secolo prima. Perché questo ultimatum? Perché di quella famiglia fa parte Pericle e quindi l'ultimatum, l'ingiunzione è assurda, c'è ordinare agli ateniesi di allontanare Pericle che è il leader riconosciuto della città. Gli ateniesi rispondono con altrettante ingiunzioni inaccettabili e finalmente quando siamo proprio alla vigilia della prima invasione dell'Attica da parte degli spartani, gli spartani mandano un ambasciatore ad Atene che si chiamava Melesippo, conosciamo questo signore grazie a Tucidide, il quale trasmette una formula ultimativa addirittura paradossale lasciate autonomi tutti i greci, tradotto in prosa questo vuol dire sciogliete l'impero che avete costituito. L'impero ateniese è nato sotto forma di alleanza paritetica, ma ben presto è diventato un impero in cui c'è una potenza dominante e degli alleati subalterni, è nato all'indomani delle guerre persiane creando una sorta di potere alternativo non riconosciuto ufficialmente rispetto all'alleanza panellenica capeggiata da Sparta. Non va mai dimenticato che Sparta è la grande potenza, non ha mai perso una guerra fino alla battaglia di Leutra, ha combattuto sempre per terra, ha egemonizzato la coalizione che ha sconfitto i persiani nell'invasione pericolosissima del 480. Atene crea un'alternativa, crea un'altra struttura solidale soprattutto con potenze marittime, grandi isole, piccole isole del mare Geo, è una lega marittima potremmo dire Atene stessa è una potenza marittima, che è al tempo stesso una grande potenza commerciale, che attraverso la esportazione del proprio modello politico, chiamiamolo sommariamente democratico, una democrazia un po' sui generis di carattere assembleare, ma comunque per comodità la chiamiamo così come la chiamavano gli antichi contemporanei, attraverso la esportazione di questo suo modello accresce il proprio prestigio, la propria influenza politica su un'area sempre più vasta, sempre più grande e sul piano commerciale mette in difficoltà una città importante del Peloponneso, non Sparta che non esercita i commerci, ma Corinto che non è una potenza militare e si appoggia a Sparta. Quindi ci troviamo a un periodo abbastanza lungo di crescita costante dell'impero atenese, della sua forza, della sua ricchezza fondata sul tributo che gli alleati pagano, sulla possibilità da parte di Atene di attingere ricchezze in un'area molto vasta, mediterranea. Assistiamo in questo quasi cinquantennio ad una crescita esponenziale, potremmo dire, della potenza atenese al cospetto di una coalizione capeggiata da Sparta sempre più in difficoltà e da ultimo messa in seria difficoltà dall'egemonia commerciale di Atene. A questo punto Tucidide racconta una seduta, un incontro diplomatico, drammatico, cui è presente un delegato atenese, dove gli alleati di Sparta esprimono recriminazioni fortissime contro l'egemonia crescente di Atene, al cospetto del re di Sparta, Archidamo, che peraltro personalmente è un buon amico di Pericle, ma che fa l'interesse della sua città, il quale deve valutare se accogliere queste pressioni dei suoi alleati, i quali chiedono di porre un freno, ricorrendo alla guerra, alla crescita della potenza atenese. Gli Atenesi parlano in questo incontro, giustificano il loro impero, riconoscono che l'impero è un problema per gli avversari e sostengono una tesi molto cara alla propaganda atenese. Abbiamo il diritto all'egemonia perché noi abbiamo salvato la Grecia dall'invasione persiana nella battaglia navale di Salamina, che fu decisiva per sconfiggere la flotta degli invasori persiani. Archidamo riflette, non risponde subito, gli spartani sono molto cauti prima di prendere una qualche decisione, specie di questo tipo, di questo peso, e alla fine il risponso è bisogna fare guerra. Polemeteon, polemetea einae, bisogna fare guerra. Tuscini ti dice perché decisero di imboccare questa strada in salita molto dura di un conflitto che tutti capivano sarebbe stato molto impegnativo e molto lungo. Lui dice non perché dessero ascolto alle recriminazioni degli alleati, che certo hanno avuto il loro peso, hanno parlato, hanno argomentato, ma perché si erano ormai convinti, il vertice spartano, che fosse non più tollerabile la crescita della potenza ateniese. Bisognava porre un freno. E quindi, dice Tuscini di un famoso capitolo, una pagina memorabile del suo racconto, la guerra la incominciarono gli spartani e gli ateniesi. È una frase assurda, se la si legge superficialmente, perché l'idea di inizio, chi spara il primo colpo, diciamo, è legata all'idea di una responsabilità specifica di uno. Invece lui ci tiene a dire, là incominciarono gli spartani e gli ateniesi. E poi spiega perché. Perché la causa verissima, dice, ha le testate, la più vera e la più inconfessata, della quale non si disse mai apertamente che fosse quella la causa, era la non possibilità per Sparta di sopportare l'ulteriore crescita della potenza ateniese. Cioè Tuscini riapproda ad una diagnosi, fra l'altro personalmente lui apparteneva a una famiglia ostile a Pericle, i suoi antenati erano stati avversari di Pericle e del padre di Pericle. Però Tuscini ha una lucidità grande realista, potremmo dire, analista politico, ha una lucidità nel cogliere la sostanza delle cose, cioè leggere al di là della superficie dei fatti e quindi riconosce che l'invasione spartana certamente fu il primo colpo nel conflitto, ma che c'era una realtà sotterranea, diciamo, nascostissima ma verissima, come lui dice, che era appunto il conflitto di potenza arrivato al punto critico, al punto di non ritorno, nel quale non ha senso stabilire chi ha responsabilità, perché la hanno entrambi sostanzialmente. Se noi pensiamo a questa diagnosi e poi ritorniamo indietro a quelle pagine o quella di Erodoto sui rapimenti di principesse in epoca mitica o alle caricature di Aristofane quando parla delle donne dell'entourage di Aspasia o anche del processo contro Fidia, ci rendiamo conto che correvano le più diverse versioni, magari affascinanti sul momento ottenevano consenso, di una guerra le cui cause vere, profonde, ricadevano su entrambi i contendenti e che sono inerenti al conflitto di potenza. Che è una logica naturalmente inquietante, inerente però alla realtà effettuale. Se noi cerchiamo, un pochino diciamo spaziando nel tempo, situazioni analoghe, se ne possono trovare le più diverse, con sfumature diverse. Penso per esempio ad un'altra guerra molto lunga, un'unica guerra anche se divisa in tante guerre, come il caso appunto dell'analisi tucididea. Penso a un conflitto incominciato nel 1792 da parte della Francia, non ancora Repubblica ma in procinto di diventarlo, e le coalizioni antifrancesi. Questo conflitto dura dal 1792 alla battaglia di Waterloo al 1815, attraverso mutamenti profondi anche dei soggetti interessati. La Francia del 92 è ancora una monarchia costituzionale, nel settembre diventerà una repubblica, nel 93 sarà una dittatura giacobina, poi ci sarà Termidoro, poi ci sarà Bonaparte, che da primo console diventerà imperatore, fulmine di guerra, vincitore di tante battaglie, ma la sostanza di quel lunghissimo conflitto, praticamente otto più quindici anni sono un tempo enorme, alla base, alla radice c'è che cosa? Il crollo dell'egemonia francese sull'Europa con la crisi della monarchia e il tentativo, riuscito in parte con Napoleone, della Francia di recuperare una posizione egemonica che per alcuni anni effettivamente ha avuto, se uno pensa alla politica dinastica di Bonaparte che sistema sul trono di Spagna, in Italia, in Renania, in Svezia, suoi generali fidatissimi o suoi parenti, quindi una politica di egemonia europea che alla fine però si scontra con l'opposizione ferrea, soprattutto del Regno Unito, dell'Inghilterra, che volta a volta trova alleati sul continente, la Prussia, l'Austria, la Russia, senza che ci sia una vera, diciamo, profonda unità di intenti, se non quella di contrastare l'egemonia francese. Bonaparte poteva significare quasi un nuovo Luigi XIV, incombente sull'Europa continentale, cosa che all'Inghilterra non è mai stata gradita l'idea che sul continente ci fosse una potenza egemone. La politica inglese è sempre stata mirante a evitare questo sbocco, diciamo, egemonico sul continente europeo. Ma il caso, se vogliamo, più vicino, potremmo dire, a quello che ho raccontato all'inizio della vicenda ateniese spartana così lontana nel tempo, è una vicenda alla quale temo, siamo portati a pensare e a guardare oggi, per tante ragioni analogiche, e cioè la lenta incubazione e l'esplosione e la lunga durata di quella che siamo soliti chiamare la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale. Diciamo, nella nostra percezione anche manualistica, anche molto seria, è una guerra che incomincia nell'agosto del 1914 e si conclude con l'abdicazione del Kaiser Guglielmo II, la fuga del Kaiser in Olanda, l'8-9 di novembre del 1918. Ma sarebbe una lettura abbastanza angusta di quella vicenda, che possiamo invece comprendere meglio se ci poniamo ancora una volta il problema delle cause. Tematica quanto mai incandescente, non dico ancora oggi, ma forse sì, la polemica molto accanita intorno alle responsabilità di quel conflitto ha avuto una vita lunghissima. Ed è accaduto anche un altro fenomeno al quale è giusto guardare, che rassomiglia molto all'analisi che ho prima ricordato Tucidide, che dice che è un'unica guerra durata 27 anni, ma i suoi contemporanei dicevano sono tre guerre diverse una dall'altra. Qual è l'elemento che volevo sottolineare a questo proposito? È che, a ben guardare, la prima metà del Novecento, del secolo XX, è stata connotata da un'unica guerra a tappe, vissuta in modo diretto, accanito, violento, direi addirittura generalizzato in alcuni gruppi di anni, ma in realtà unica nelle sue motivazioni profonde. Un grande storico inglese, cioè inglese di adozione, ma in realtà americano di origine, Moses Finley, che ha grandi meriti nel campo della storia antica, ma era un uomo di grande sensibilità storiografica, politica. Ecco, Finley, tantissimi anni fa, a metà degli anni sessanta, pubblicò una breve introduzione molto ben fatta ad una traduzione in edizione economica, il Penguin Books, dell'opera di Tucidide, un'introduzione in cui riflette sulla biografia di quest'uomo, sulla vicenda di cui lui parla, e a un certo punto fa una notazione molto interessante, che cioè l'escogitazione, Tucididea, di capire l'unità di quel conflitto al di là dell'apparenza di coloro che pensavano appunto che fossero alcune guerre diverse una dall'altra, successive nel tempo. Quella conquista, lui dice, ci aiuta a capire il Novecento, cioè la sostanziale continuità dei due conflitti che noi denominiamo prima e seconda guerra mondiale. Questa idea si è fatta a strada pian piano, come sempre succede poi nella ricerca storiografica, è la storia vivente che illumina la comprensione del passato, direi inevitabile questo. Si racconta che un grande personaggio della Cina moderna, che fu ministro degli esteri della Repubblica Popolare Cinese, che si chiamava Chu Enlai, una volta richiesto di un giudizio sulla rivoluzione francese, pare che abbia risposto, è ancora troppo presto per formularlo. E può far sorridere questa risposta, ma se noi consideriamo che due secoli e passa, dal 1789, hanno visto un alternarsi di valutazioni complessive e anche di ridimensionamenti, reinterpretazioni di quella vicenda, uno è portato a dare ragione a quell'uomo. Il secondo centenario, per dire, della rivoluzione francese, il 1989, vide, per una combinazione cronologica, la crisi verticale del cosiddetto mondo socialista dell'est Europa, la crisi di un modello politico e un ripensamento del giudizio sulla rivoluzione francese come tappa in una storia progressiva dell'Occidente europeo. La storia vivente spingeva a pensare diversamente, a valutare con maggiore lucidità, adducendo elementi di giudizio prima non utilizzati, un episodio che sembrava assodato, tranquillo. E questo vale anche per la vicenda delle due guerre mondiali del secolo XX, delle loro cause profonde e della loro sostanziale unità. Naturalmente, avvicinandosi al tempo nostro, la tematica suscita grande divisione. Facciamo un esempio, sempre intorno a quella della vicenda del XIV. Credo che sia ancora abbastanza forte, perlomeno nella tradizione manualistica, l'idea che gli imperi centrali, autocrazie spinte da un bellicismo incontenibile, abbiano provocato una reazione delle potenze avversarie, Francia e Inghilterra, le democrazie contro le autocrazie. E quindi i buoni e i cattivi, va bene. E la responsabilità è tutta di questa aggressiva realtà centro-europea, l'impero ostrungarico e l'impero tedesco. Con una curiosa collocazione dell'Italia, che è parte della triplice alleanza con Austria-Germania, e nell'aprile-maggio del XV, la guerra è cominciata già nell'agosto del XIV, con gli incontri segreti a Londra, il patto di Londra, passa dall'altra parte, completa, potremmo dire, lo schieramento, che però è singolare, perché lo schieramento franco-inglese soprattutto, ha dall'altra parte, al di là della Germania, un alleato importantissimo nella Russia zarista, il paese più autocratico immaginabile all'epoca. Per cui le alleanze delle grandi democrazie, Francia e Inghilterra, ammesso che sia giusto definirle così, si complicava con un partner molto importante, che era tutt'altro tipo di organizzazione statale e politica. E d'altra parte, uno potrebbe anche riflettere sulla caratteristica, sulla validità di quelle definizioni. Si potrebbe anche dire, per esempio, che il suffragio universale, che bene o male è l'elemento connotante dei meccanismi politici definibili come democratici, nella Germania e nell'Austria era in atto, da molto prima, per esempio, che nell'Italia, che vide un suffragio quasi universale soltanto con Giolitti nel 1912, mentre in Inghilterra aveva forti limitazioni. Era un suffragio universale un po' sui generis. E le due potenze, diciamo, dell'intesa cordiale Francia e Inghilterra, partner della Russia, avevano contro due potenze ritenute autocratiche, ma in realtà tali non erano, che a loro volta erano alleate dell'impero ottomano. Quindi lo scacchiere, diciamo, era molto meno lineare e ideologicamente appagante di come l'autorappresentazione nostra tradizionale abbia suggerito. Perciò, dicevo, nella tradizione manualistica rimane ancora questa idea un po' manichea dei due mondi, uno pessimo e l'altro nobile, che arrivarono allo scontro e vinsero naturalmente i buoni contro i cattivi. Tutto questo è propaganda, cosa molto seria. La propaganda è una cosa importantissima. Oserei dire basta non crederci, cioè sottoporla a critica. Noi sappiamo però che è un fattore di storia determinante. Potremmo anche aggiungere che in quegli anni certamente il servizio di intelligence inglese era di gran lunga superiore a quello tedesco. Era diretto da un personaggio, si chiamava Lord Northcliffe, che poi fu assunto a modello, potremmo dire dal punto di vista tecnico, dall'artefice della propaganda tedesca del Terzo Reich, cioè Goebbels. Questo a significare quanto quel modello di intelligence e di potenza propagandistica fosse efficace, tanto appunto da essere preso a modello dall'antico avversario. Naturalmente la storia la scrivono i vincitori, almeno per un certo tempo, magari pian piano le cose cambiano, ma cambiano molto lentamente. I vincitori imposero a Versailles nel 1919 una pace durissima, una pace capestro, che fu una delle cause remote ma decisive dell'incubazione della Seconda Guerra Mondiale. Tutto quello che di intollerabile, iniquo, punitivo era contenuto nel clausole del Trattato di Versailles, determinò un revancismo tedesco di cui poi gli effetti furono la grande vittoria elettorale, politica, del nazionalsocialismo e la crisi bellica successiva. Se pensiamo un solo dato, minimo, l'articolo 131 del Trattato di Versailles definiva, descriveva lo statuto della città di Danzica, una delle scintille poi della guerra del 39. se uno legge quell'articolo si rende conto dell'assurdità delle clausole inventate a Versailles in funzione antitedesca. Danzica, il 99% era di popolazione tedesca, tedescofona, c'era una minoranza polacca, naturalmente. E allora l'invenzione è la città libera, una città con statuto autonomo, una sorta di repubblica dell'età dei comuni medievali, che però per la politica estera deve dipendere da Varsavia, quindi dal governo polacco. E però è retta da un consiglio direttivo presieduto da un esponente svizzero. Capite benissimo come fosse insostenibile uno statuto di quel genere, è come fosse facile porre da parte tedesca la rivendicazione di una città di fatto tedesca. Peraltro dove a suo tempo è nato il filosofo Schopenhauer, che non è molto importante dal punto di vista demografico, ma è un po' simbolico. Ma la riflessione sulle cause della guerra successiva, largamente presenti nel modo in cui i vincitori avevano voluto stravincere a Versailles nel 19, va completata con la riflessione su come si arrivò al conflitto. E quindi torniamo ancora una volta alla tematica delle cause. Da qualche anno è uscito un libro molto interessante in Germania, presso un piccolo editore, curato da due studiosi piuttosto giovani e molto preparati, che ha un titolo curioso, che si completa con le immagini della copertina. Nella copertina appaiono alcuni esponenti di spicco della politica inglese degli anni 1914-15. Uno è Winston Churchill, che all'epoca non era leader del Partito Conservatore, era ancora liberale, e ministro della Marina Britannica. e accanto a lui c'è un famoso banchiere, il più importante banchiere della City londinese, e accanto a lui poi c'è un ammiraglio della flotta di Sua Maestà. Il titolo è E' la tesi al centro di questo libro, che peraltro ha avuto anche una eco positiva nella narrativa, in una certa narrativa storico, diciamo, di finzione, di origine britannica. Mi riferisco all'uomo di Pietroburgo di Ken Follett, che è un libro ovviamente di fiction, però riguarda proprio quel momento, il momento in cui l'Inghilterra fa in modo che si arrivi al conflitto, riuscendo a coinvolgere la Russia, con promesse di sbocco nel Mediterraneo, i famosi Mari Caldi, promettendo la catastrofe, del resto prevedibile, dell'impero ottomano, e quindi la possibilità per la Russia di superare questo impedimento tradizionale. Pensate alla guerra, all'assedio di Sebastopoli, con i nostri bersaglieri che Cavour mandò a suo tempo, con mossa molto abile per la nostra politica italiana. perché era fondamentale per coloro i quali al vertice britannico puntavano alla guerra, avere la Russia dalla loro parte. Perché la politica, diciamo, acuta, lungimirante del cancelliere Bismarck era sempre stata quella di evitare che la Germania avesse nemici a ovest e a est, cioè l'accerchiamento dell'alleanza russo-francese era per Bismarck il fumo negli occhi. Il patto dei tre imperatori che lui riuscì a realizzare, e i tre imperatori erano l'imperatore d'Austria, lo zar di Russia e l'imperatore di Germania, era l'antidoto, il contraveleno rispetto al rischio dell'accerchiamento. Ecco perché, dopo il congedo di Bismarck, l'avvento al potere del successore del sovrano, questa volta è Guglielmo II, che era un uomo ben diverso, peraltro imparentato con la regina Vittoria, ma questo non aveva molta importanza, era il momento di riuscire a creare un cuneo tale da portare la Russia dall'altra parte. Ma perché questo accanimento, perché questa idea che la guerra fosse ormai inevitabile, quale che fosse l'incidente che la provocava? E l'incidente fu l'attentato di Sarajevo, naturalmente. Perché per l'Inghilterra era intollerabile la crescita della potenza industriale e militare e marittima e coloniale della Germania Guglielmina. La Germania si affaccia al continente africano, mette piede nel Camerun, nel Togo, ma è poca cosa rispetto alla spartizione dell'Africa tra Francia e Inghilterra, che erano arrivati allo scontro, al rischio di uno scontro a Fascioda, dove i due eserciti si erano incontrati con intento ovviamente non benevolo, e un accordo diplomatico molto forte e durevole aveva determinato poi quella spartizione tra Africa anglofona e Africa francofona che ha avuto una vitalità altalenante ma abbastanza durevole fino al dopo la Seconda Guerra Mondiale. La Germania si affaccia, vuole spazio lì e questo naturalmente è considerato un pericolo. Ma il pericolo ancora più grave è la Germania che guarda a Oriente, la famosa ferrovia Berlino-Baghdad, grande realizzazione tecnologica, che era considerato l'antefatto della penetrazione in profondità attraverso l'impero ottomano, l'Iran, l'Afghanistan, l'Iraq, dell'industria tedesca, della cultura tedesca, dell'influenza politica tedesca. E poi la flotta d'alto mare, la flotta da guerra che contendeva o poteva contendere all'Inghilterra il dominio incontrastato dei mari. Nel XIV l'Inghilterra è la più grande potenza mondiale grazie al dominio dei mari e all'enormità del suo impero che va dall'India all'Africa. Il disturbatore viene tollerato per un tempo non breve e poi si arriva al conflitto. È la stessa riflessione che fa Tucidide quando dice Archidamo decise per la guerra non perché avesse dato molta retta ai suoi alleati piccoli o poco significanti o comunque militarmente non significativi, ma perché si era convinto che la crescita della potenza atenese fosse ormai intollerabile. E questa è la causa, come dice Tucidide, verissima ma non confessata, nascostissima. Nel caso nostro non è non confessata perché c'è tanta letteratura e tanta documentazione in proposito. del mondo antico noi abbiamo conoscenze molto limitate per tante ragioni, compresa la perdita di tante opere, ma soprattutto si può dire la documentazione d'archivio nasce molto lentamente nelle città arcaiche come Atene nel V secolo. Per mondo nostro, moderno, contemporaneo, l'archivio è una delle fonti fondamentali di conoscenza, infatti in alcuni casi viene limitato l'accesso o comunque vengono limitati i fondi che si possono consultare, perché nell'archivio ci sono dati fondamentali per l'interpretazione di quello che la propaganda invece racconta in altra maniera. I vincitori ebbero addirittura l'arroganza di imporre alla Germania ormai repubblicana, perché dopo la fuga del Kaiser nasce la Repubblica tedesca il 9 novembre del 1918, primo cancelliere e il capo del Partito Socialista che si chiamava Scheidemann, si vota nel gennaio del 19, c'è un grande consenso per i partiti socialista e socialista indipendente, i quali partiti avevano rispetto alla politica condotta dal Kaiser, molto spirito critico, molti rilievi da porre, perché se sappiamo che bellicista era il vertice britannico non meno lo era quello tedesco, sia ben chiaro, cioè un puro e semplice conflitto di potenza, non un conflitto tra democrazia, autocrazie, buoni e cattivi. Allora alla neonata Repubblica tedesca viene imposto dai vincitori di istituire una commissione d'inchiesta sulle responsabilità tedesche nella guerra, mossa abile in realtà, perché rispetto alla politica imperiale la neonata Repubblica aveva un atteggiamento molto critico, ma ancora negli anni 60 del novecento sono apparsi in Germania studi importantissimi, tutti orientati sull'analisi della aggressività tedesca in quegli anni. C'è un libro di Fritz Fischer, che è stato tradotto dai Naudi nel 1961, il cui titolo dice molto Assalto al potere mondiale, Griff nach Weltmacht. Effettivamente nella testa del Kaiser e della sua cerchia c'era questa volontà di ribaltare la posizione emarginata nel dominio planetario che aveva la Germania rispetto alle altre due grandi potenze, soprattutto rispetto all'Inghilterra. I lavori di questa commissione d'inchiesta produssero una grande quantità di documentazione, volume, quindi sono delle fonti storiche formidabili, ma sono molto unilaterali perché raccontano solo quella metà. Dalla parte dei vincitori non ci fu mai una commissione d'inchiesta sulle responsabilità nella guerra. Questo libro che ho ricordato poc'anzi, Essi volevano la guerra, è uscito tre, quattro anni fa, siamo entrati da un bel po' nel ventunesimo secolo. Allora, io credo di aver parlato fin troppo e vi ho annoiati, il precipitato, diciamo, la conclusione che l'indagine storiografica sul tema le cause dei conflitti suggerisce. Suggerisce che ci sono momenti nei quali gli schieramenti contrapposti che hanno sempre un fondo di scontro di potenza, hanno però anche una grande carica di carattere propagandistico, ideologico, di schieramento ideale. E in certo senso la guerra fredda questo fu nel seconda metà del secolo ventesimo. Ci sono invece momenti in cui è evidente che lo scontro è uno scontro di potenza. E questo vale per la guerra del Piroponneso, vale per la prima metà del Novecento, vale in particolare per la cosiddetta Grande Guerra. Grazie.